buona sera siamo qui con christian murer dell'everbeer e non siete riusciti purtroppo a dare continuità al risultato utile della scorsa settimana cosa non ha funzionato stasera è un po di tempo non funzionano parecchie cose tra tutti i tanti infortuni che ci stanno veramente falcidiando e speriamo per le prossime arrivata infatti da un periodo non proprio semplice cosa serve per rimettersi in carreggiata e per darvi la motivazione giusta per andare avanti in vista dei playoff è trovare un po di continuità nel nei giocatori nel recuperare gli infortuni e di metterci in sesto tutto qua ve lo auguro allora grazie grazie a te ecco nicolò catapan del treviso united anche stasera portate a casa una vittoria ad ora nessuno è riuscito a battervi per cui direi che come primo anno in serie a state andando alla grande che partita è stata poi io mi sono divertito sinceramente all'inizio abbiamo sofferto un po però poi ci riuscite a rimetterla in piedi e abbiamo portato a casa la vittoria avete sempre detto che pensate di partita in partita ad oggi che mancano tre giornate di campionato qualche pensiero sulle sulle finali di playoff si può già fare o è ancora speriamo tanto di sì noi portiamo vicine tutte e speriamo bene bene ti ringrazio grazie a te ciao a tutti